Napoli è strutturalmente afflitta dalla Camorra, così il questore Giuliano che ha tracciato il bilancio dell'attività della polizia nel 2021. Marcella Maresca. È evidente che a Napoli esista e non da oggi un problema di sicurezza, ma ne approfitto per ribadire ancora una volta che il problema principale di questo territorio è la criminalità organizzata. Non ci sono solo gli spari delle faide combattute in strada. Napoli è una città afflitta strutturalmente dalla Camorra, che trova nuove maschere per inquinare l'economia e il territorio. Una Camorra raccontata spesso come folclore, ma che si infiltra nella pubblica amministrazione e nelle imprese. Lo ribadisce il questore di Napoli durante la conferenza stampa di fine anno. L'appello ai cittadini è denunciare sempre anche le piccole illegalità del quotidiano. Occorre ovviamente una sempre maggiore specializzazione degli organi inquirenti, quello che cerchiamo sempre di perseguire, ma occorre anche fare rete, fare squadra, perché non tutti questi problemi così complessi possono essere affrontati soltanto sul versante della prevenzione e della repressione dei reati, ma occorre anche contrastare ad esempio la marginalità, ad esempio la dispersione scolastica, ad esempio l'assenza di servizi. Rispetto all'anno scorso i reati sono aumentati dell'8%, fisiologico considerato il lockdown del 2020. Calano del 6% le rapine, crescono sensibilmente i casi di stalking, violenze sessuali e domestiche. Poi c'è il capitolo dei controlli anti-Covid e un pensiero per i poliziotti che hanno perso la vita quest'anno per il loro impegno.